SoccerTrade.it è il primo, Soccer Stock Market, italiano dove gli utenti possono investire sui calciatori, calciatrici, allenatori e allenatrici in cui credono, dei campionati italiani, serie A, serie B, serie C e serie D, ed esteri, come se selezionassero un'azione di borsa, creare un portafoglio di talenti le cui quote saranno destinate a crescere di valore nel tempo e quindi ottenere un guadagno in base alle performance settimanali, mensili e stagionali realizzate dai calciatori, dalle calciatrici, dagli allenatori e dalle allenatrici su cui avete deciso di investire. SoccerTrade.it è una piattaforma che permette di fare trading sulle quote, cartellini virtuali, dei calciatori dilettanti e professionisti, calciatrici, allenatori, allenatrici inseriti nella nostra piattaforma, creando una connessione tra la passione per il calcio e i concetti alla base della finanza. Quante volte avete pensato di essere dei grandi conoscitori di questo sport in grado di notare in anticipo le potenzialità di un calciatore, di una calciatrice, di un allenatore o di un'allenatrice. Ora con SoccerTrade.it gli amanti del calcio potranno dimostrare le loro doti da procuratori e talent scout, creando e gestendo una rosa di calciatori, calciatrici, allenatori o allenatrici il cui valore di quota aumenterà nel tempo e quindi vi permetterà di ottenere guadagni. Inoltre su SoccerTrade.it sono arrivate le quote speciali o NFS, non fungible share. Ovvero, quota non copiabile, dedicate ai calciatori considerati, leggende del calcio, trattino maggiore. Queste quote non perdono mai valore e aumentano solamente. SoccerTrade.it è il primo, Soccer Stock Market, italiano dove gli utenti possono investire sui calciatori, calciatrici, allenatori e allenatrici in cui credono, dei campionati italiani, serie A, serie B, serie C e serie D, ed esteri, come se selezionassero un'azione di borsa, creare un portafoglio di talenti le cui quote saranno destinate a crescere di valore nel tempo e quindi ottenere un guadagno in base alle performance settimanali, mensili e stagionali realizzate dai calciatori, dalle calciatrici, dagli allenatori e dalle allenatrici su cui avete deciso di investire. SoccerTrade.it è una piattaforma che permette di fare trading sulle quote, cartellini virtuali, dei calciatori dilettanti e professionisti, calciatrici, allenatori, allenatrici inseriti nella nostra piattaforma, creando una connessione tra la passione per il calcio e i concetti alla base della finanza. Quante volte avete pensato di essere dei grandi conoscitori di questo sport in grado di notare in anticipo le potenzialità di un calciatore, di una calciatrice, di un allenatore o di un allenatrice. Ora con SoccerTrade.it gli amanti del calcio potranno dimostrare le loro doti da procuratori e talent scout, creando e gestendo una rosa di calciatori, calciatrici, allenatori o allenatrici il cui valore di quota aumenterà nel tempo e quindi vi permetterà di ottenere guadagni. Inoltre su SoccerTrade.it sono arrivate le quote speciali o NFS, non fungible share. Ovvero, quota non copiabile, dedicate ai calciatori considerati, leggende del calcio, trattino maggiore. Queste quote non perdono mai valore e aumentano solamente. SoccerTrade.it è il primo, Soccer Stock Market, italiano dove gli utenti possono investire sui calciatori, calciatrici, allenatori e allenatrici in cui credono, dei campionati italiani, serie A, serie B, serie C e serie D, ed esteri, come se selezionassero un'azione di borsa, creare un portafoglio di talenti le cui quote saranno destinate a crescere di valore nel tempo e quindi ottenere un guadagno in base alle performance settimanali, mensili e stagionali realizzate dai calciatori, dalle calciatrici, dagli allenatori e dalle allenatrici su cui avete deciso di investire. SoccerTrade.it è una piattaforma che permette di fare trading sulle quote, cartellini virtuali, dei calciatori dilettanti e professionisti, calciatrici, allenatori, allenatrici inseriti nella nostra piattaforma, creando una connessione tra la passione per il calcio e i concetti alla base della finanza. Quante volte avete pensato di essere dei grandi conoscitori di questo sport in grado di notare in anticipo le potenzialità di un calciatore, di una calciatrice, di un allenatore o di un'allenatrice? Ora con SoccerTrade.it gli amanti del calcio potranno dimostrare le loro doti da procuratori e talent scout, creando e gestendo una rosa di calciatori, calciatrici, allenatori o allenatrici il cui valore di quota aumenterà nel tempo e quindi vi permetterà di ottenere guadagni. Inoltre su SoccerTrade.it sono arrivate le quote speciali o NFS, non fungible share, ovvero, quota non copiabile, dedicate ai calciatori considerati, leggende del calcio, trattino maggiore queste quote non perdono mai valore e aumentano solamente. SoccerTrade.it è il primo Soccer Stock Market italiano dove gli utenti possono investire sui calciatori, calciatrici, allenatori e allenatrici in cui credono, dei campionati italiani, serie A, serie B, serie C e serie D, ed esteri, come se selezionassero un'azione di borsa, creare un portafoglio di talenti le cui quote saranno destinate a crescere di valore nel tempo e quindi ottenere un guadagno in base alle performance settimanali, mensili e stagionali realizzate dai calciatori, dalle calciatrici, dagli allenatori e dalle allenatrici su cui avete deciso di investire. SoccerTrade.it è una piattaforma che permette di fare trading sulle quote, cartellini virtuali, dei calciatori dilettanti e professionisti, calciatrici, allenatori, allenatrici inseriti nella nostra piattaforma, creando una connessione tra la passione per il calcio e i concetti alla base della finanza. Quante volte avete pensato di essere dei grandi conoscitori di questo sport in grado di notare in anticipo le potenzialità di un calciatore, di una calciatrice, di un allenatore o di un'allenatrice. Ora con SoccerTrade.it gli amanti del calcio potranno dimostrare le loro doti da procuratori e talent scout, creando e gestendo una rosa di calciatori, calciatrici, allenatori o allenatrici il cui valore di quota aumenterà nel tempo e quindi vi permetterà di ottenere guadagni. Inoltre su SoccerTrade.it sono arrivate le quote speciali o NFS, non fungible share. Ovvero, quota non copiabile, dedicate ai calciatori considerati, leggende del calcio, trattino maggiore queste quote non perdono mai valore e aumentano solamente. SoccerTrade.it è il primo, Soccer Stock Market, italiano dove gli utenti possono investire sui calciatori, calciatrici, allenatori e allenatrici in cui credono, dei campionati italiani, serie A, serie B, serie C e serie D, ed esteri, come se selezionassero un'azione di borsa, creare un portafoglio di talenti le cui quote saranno destinate a crescere di valore nel tempo e quindi ottenere un guadagno in base alle performance settimanali, mensili e stagionali realizzate dai calciatori, dalle calciatrici, dagli allenatori e dalle allenatrici su cui avete deciso di investire. SoccerTrade.it è una piattaforma che permette di fare trading sulle quote, cartellini virtuali, dei calciatori dilettanti e professionisti, calciatrici, allenatori, allenatrici inseriti nella nostra piattaforma, creando una connessione tra la passione per il calcio e i concetti alla base della finanza. Quante volte avete pensato di essere dei grandi conoscitori di questo sport in grado di notare in anticipo le potenzialità di un calciatore, di una calciatrice, di un allenatore o di un'allenatrice. Ora con SoccerTrade.it gli amanti del calcio potranno dimostrare le loro doti da procuratori e talent scout.